Fai l'introduzione Voi sapete che il Natale di oggi vuole più mille del tempo So qua eh, o c'è? Ci ci vuole il Natale e si potrebbe dire che Gesù Bambino è il più grande agente di vendita che esista al mondo Allora, io sono sorpreso di questo fatto un po' capricciato perché i tempi è più ingero Eeeh, ma vediamo cosa c'è di Palestina Eccolo Quella capannuccia da giù nel Medio Oriente e ventiquattro sera che c'era un fottio di gente e pienti bancanelle che vendono di ogni cosa croccanti tolugini semillupignaiosa nel prato e in vivigliaccio e grida il pannuccino ciò canta la pattona ciò è il pane di ramerino chi vuole le bruciate con cante le pallotte o palle gira il largo che tu perai ci ha rotte eeeh il vento pitta la ponte c'è il tripaio carte cartocci bucce e un grande tavolaio chi vende i frigidini chi vende il muccellato chi si lo vanda attorno ma scusi un neancornato chi fa giucciando a scisse e come americane ti ha fermo il giovinotto la spinta con le mani guardiamo a mezzanotte ma fratello questo è un po' meno spetta indietro il vento speriamo un faccia caldi perchè qui tira vento io vengo tutti gli anni e non posso farne a meno vedere qui il bel bambino sopra un pallino di sieno io mi commuovo facile scoppiamo sempre i chianti quest'anno mi confronto portato i chianti così di cicareccio forte mucisce pure sa che son briaco ma qui ne dati due i quattro evangelisti son presi dal scomento si attruttano di fare il nuovo testamento testamento nuovo fatto dai fettinelli che non ha limite e morte di questi ducevelli o fa un sarà un gammale e un mutala dottrina pensa un po' che portello se lei era una bambina così si si i fija fija volano la santa notte che gli arabi e i gebrei tornano ad rassi volte grazie 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 Grazie.